Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta per proseguire questa nostra rassegna stampa durante la quale ci concentreremo come sempre sulle notizie sportive. E allora un veloce sommario dei principali fatti sportivi di oggi attraverso la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Vediamo in apertura il Milan con la missione rossonera di Mr. Lee che cerca amici, caccia un socio per il Milan con Europa, arriveranno tre big e poi il mercato, Allegri, Ancellotti, Spalletti, chi serve a chi? Ecco la lista. Per il tennis c'è Chinato che passa ai quarti del Roland Garros dove troverà Diokovic e oggi ci sarà un altro italiano Fognini impegnato negli ottavi dove incrocerà il Croato Cilic e poi la MotoGP, la Ducati al Mugello fa festa tra i veleni, Rossi Podio, Felicità, prima e seconda la Ducati, terzo Valentino Rossi e poi vediamo il Golf con Super Molinari, secondo ma è primo in Europa e poi vediamo anche la Nazionale tornando al calcio, questa sera la partita contro l'Olanda e le parole di Balotelli, io capitano Italia, messaggio agli immigrati nel basket, vediamo il taglio alto, oggi sulla Gazzetta un inserto speciale di otto pagine sulla finale Scudetto, una finale inedita tra Milano e Trento. Questi principali fatti sportivi di oggi, poi ritorneremo anche su queste notizie nella parte finale di questo nostro buongiorno Friuli, adesso andiamo subito sui quotidiani locali, andiamo sul messaggero Veneto e vediamo assieme i titoli, le notizie che riguardano la nostra Udinese, anche qui c'è il mercato in primo piano e vediamo il titolo Iancto e Widmer via per la nuova Udinese, il cieco seguito da Juve e Inter e lo svizzero per finanziare il mercato. Il primo passo, scrive Pietro Oleotto nel suo articolo, si chiama Daniele Pradè, l'unico direbbero i maligni facendo capire che l'Udinese ancora con la Margherita in mano dopo aver flirtato con il portoghese Miguel Cardoso per il dopo Igor Tudor, cambierà l'allenatore Gino Pozzo e lo prenderà all'estero facendo mercato nella penisola iberica senza rientrare in Italia dove Rolando Maran ha trovato posto al Cagliari e dove Cesare Prandelli e Roberto Donadoni non sono nei primi posti della Hit Parade. Bianco-nera e vediamo anche questo passaggio, caccia all'allenatore in Spagna grazie al consiglio di Monfort, l'uomo di fiducia di Pozzo, ex allenatore dell'Alves e soprattutto ex capo dello scouting internazionale del Real Madrid. E' lui l'uomo di fiducia di Pozzo e colui che può avere indicato all'Udinese il nome dell'allenatore su cui puntare in futuro. Per quanto riguarda invece il mercato dei calciatori, vediamo, si vuole fare cassa senza toccare merette, il portiere destinato al ruolo di titolare. E poi vediamo anche tutto l'articolo con le altre voci di mercato. Nel taglio alto la consueta rubrica di Bruno Pizzul che dice arriva Pradè, questa è l'unica verità, questa è la rubrica La mia domenica di Bruno Pizzul. Andiamo anche sul gazzettino, così leggiamo anche i titoli dell'Udinese, sulle pagine del gazzettino, ecco qua la pagina dedicata all'Udinese. Bianconeri, una guida spagnola, scrive il gazzettino. Maggino Pozzo vuole prima trovare l'accordo con il nuovo direttore sportivo, sarà Daniele Pradè. In panchina il candidato principale è Sanchez Flores. Può essere la settimana decisiva. L'Udinese cerca l'accoppiata in grado di accendere il motore della stagione 2018-2019. La dirigenza bianconera sta lavorando a un doppio obiettivo che consiste nella firma del nuovo direttore sportivo, nonché responsabile dell'area tecnica, Daniele Pradè, e in quella dell'allenatore che sostituirà Igor Tudor sulla panchina della prima squadra. E poi vediamo anche il mercato di spalla, la Juventus corteggia Meret e Jankto, De Paul Noiting in viola per Ejsevic. Prima di proseguire la nostra analisi delle pagine sportive del Gazzettino, ci colleghiamo come ogni giorno con la centrale operativa della Polizia Locale e dell'Uti del Friuli Centrale. Al telefono con noi oggi abbiamo il vice ispettore Cristiano Beretta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Situazione al momento di traffico regolare, non abbiamo segnalazioni particolari. Diciamo per quanto riguarda i lavori, che una buona notizia è la completa riapertura di Viale Trieste in entrambi i sensi di marcia, quindi tutta percorribile Viale Trieste, l'asfaltatura è finita. Per i lavori invece che devono iniziare abbiamo in Via Colugna, quelli della nuova rotatoria all'altezza dell'ingresso dell'elisoccorso, e la Via Colugna sarà parzialmente chiusa, ci sarà un senso unico in direzione di Chiavris. Comunque sì, sarà comunque percorribile deviazioni in loco e sicuramente qualche rallentamento, qualche disagio. E poi iniziano i lavori preparatori oggi per la chiusura di Via Grazzano, anche per il rifacimento del Porfido, da Piazzale Cella a Via della Cisterna. Lavori che proseguiranno poi anche fino al 20 di luglio. Ecco, comunque oggi dovrebbero iniziare questi due cantieri, quello di Via Colugna e quello di Via Grazzano. Grazie allora al vicispettore Cristiano Beretta che ci ha annunciato appunto l'avvio di due nuovi cantieri in città. Noi adesso chiudiamo il collegamento con la polizia locale, ritorniamo sulle pagine del Gazzettino. Eravamo su questa pagina, quella dedicata all'Udinese, avevamo parlato dell'allenatore del mercato, nel taglio basso invece spazio. Alle date della prossima stagione, il 4 luglio partirà la nuova avventura, ancora un mese di attesa, poi l'Udinese inizierà a scaldare i motori. I tifosi bianconeri, molti dei quali sono ancora in attesa dell'incontro ufficiale con la società, hanno 30 giorni per riprendere fiato. Poi insieme alla squadra saranno chiamati a raccolta per spingere l'Udinese verso una nuova annata. La data da segnare in rosso, anche se la società non ha ancora ufficializzato la scaletta estiva, è quella del 4 luglio. Il ritiro, dice il Gazzettino, sarà ancora nel borgo di St. Vite, gemellato con Salvito al Tagliamento. Sempre sulle pagine del Gazzettino, spazio anche ovviamente al Pordenone, Nero Verdi a caccia del Mister. Zironelli resta il primo della lista, niente d'erbino con i bianconeri nella nuova stagione di Serie C. Allora andiamo subito nelle pagine successive del fascicolo sportivo e vediamo per quanto riguarda il Pordenone. Zanetti elimina i laziali di Sottili, lo scontro diretto fra i due, anzi scusate, questo è l'altro articolo. Adesso andiamo a leggere questo altro articolo che ci parla appunto del fatto che l'Udinese non allestirà una squadra B da schierare nel campionato di Serie G, un progetto che non decolla e quindi il titolo del Gazzettino, niente derby regionale, comunicazione, la società Nero Verde parteciperà allo Sport Digital Marketing Festival di Riccione con le grandi d'Italia. Ecco anche questo titolo. Sempre per quanto riguarda il Pordenone, ritorniamo sulle pagine del Messaggero Veneto e andiamo a leggere assieme anche gli articoli dedicati al Pordenone. Vediamo il capitolo mister. Zironelli si apre la settimana decisiva in attesa del nuovo tecnico, mentre il Mestre fa opposizione ma a giorni l'operazione si dovrebbe concludere. Intanto la Virtus Entella chiama Tedino. Il countdown è partito, scrive Alberto Bertolotto. Questa settimana dovrebbe essere quella buona per vedere Mauro Zironelli con i colori del Pordenone. Il tecnico a quanto pare si libererà del Mestre. Il presidente Stefano Serena ha aperto al suo addio e firmerà il contratto biennale proposto dal club nero-verde. Siamo dunque agli sgoccioli. E poi per quanto riguarda i play-off di Serie C, le semifinali saranno fra Alto Adige e Cosenza e Siena-Catania. Che sfide, scrive il messaggero Veneto. Ancora rimaniamo su questo quotidiano e andiamo a parlare di un'altra sfida, quella che ha visto di fronte ieri il Lumignacco e il Calvina per la finale, per salire in Serie D. è finita 2 a 2, il Lumignacco a 7 vite, scrive il messaggero Veneto. La porta per la D resta aperta. Grazie a una feroce reazione nell'ultima mezz'ora, nella quale ha recuperato lo svantaggio di due reti, fallito un rigore, colpito un palo e mancato un altro paio di clamorose occasioni, il Lumignacco è riuscito a rimanere in corsa per la salita in Serie D. Obiettivo che pareva compromesso alla luce di quanto esibito dal Calvina nella prima ora di gara. E ora tutto sarà deciso dalla partita di ritorno domenica prossima a Calvisano, in provincia di Brescia. Un 2 a 2 dunque che lascia ancora la porta aperta e Zanutic dice sono certo che domenica ce la giocheremo. Queste le parole dell'allenatore del Lumignacco. Il pareggio ci va assolutamente stretto, non ha dubbi su quale dovesse essere il risultato finale della gara con il mister della gara il mister del Lumignacco, Andrea Zanutic. Non mi piace parlare degli arbitri ma quello visto oggi non ha permesso alla partita di prendere quota, ha detto il mister. Ha fischiato ogni contatto, anche veniale. Nella prima frazione non siamo riusciti a trovare il ritmo, innervosendoci. Nella ripresa siamo rientrati con il piglio giusto. Per questo sono fiero della prestazione dei miei ragazzi che hanno giocato ad alto livello. Non credo sia stata questione di campi ma di atteggiamento. Dobbiamo ora ricaricare le energie e farci trovare pronti domenica quando, sono certo, ce la giocheremo. Ed ecco qua tutto tutto l'articolo. Voltando pagina vediamo anche un altro articolo che riguarda in in questo caso la l'ipotesi di un canale esclusivo della Lega torniamo a parlare di serie A in questo caso della questione della cessione dei diritti televisivi il canale esclusivo è il futuro del calcio. Il vicepresidente dell'Udinese campoccia all'assemblea di Lega a pochi mesi dal via è tutto da rifare gli scenari più probabili sono la vendita a Sky o fare la rete tematica con Media Pro Editore domenica comincerà la settimana domani scusate comincerà la settimana decisiva per l'assegnazione dei diritti televisivi della serie A per il triennio 2018-2021 quelli che l'intermediario spagnolo Media Pro si era assicurato a inizio febbraio ma che di fatto non ha mai potuto rivendere trovandosi al centro di un'avvertenza con la Lega di serie A e poi abbiamo tutta l'intervista al vicepresidente dell'Udinese Campoccia che racconta appunto la posizione della Lega e anche la posizione dell'Udinese su questo argomento ecco qua tutta l'intervista rimaniamo sulle pagine del messaggero Veneto e andiamo a vedere anche le ultime novità che ci arrivano dal basket dalla GSA ecco l'articolo dedicato all'APU Pedone vuole più spettacolo Cavina è perfetto a parlare è Michele Ferrari che ringrazia Lardo e benedice il nuovo coach resterà a Udine nei prossimi giorni incontrerò la società ha detto la stagione 2017-2018 è andata in archivio ma in casa a UGSA si lavora già per allestire il roster 2018-2019 il momento è buono per scambiare due chiacchiere con Michele Ferrari il capitano bianconero del campionato da poco concluso e che è anche l'unico giocatore dell'ultima GSA ad avere già giocato agli ordini di Damis Cavina nella stagione 2009-2010 griffata Snydero e poi l'intervista che comincia con un bilancio della stagione da poco conclusa mi sento di dire che è stato un campionato positivo siamo arrivati quarti al termine della regular season abbiamo raggiunto i quarti di finale playoff e ce li siamo giocati sino in fondo senza dimenticare che il terzo posto a fine girone d'andata è valso l'accesso alle final eight di Coppa Italia come seconda stagione in Serie A2 c'è di che essere soddisfatti è mancato forse un pizzico di precisione su quello che avevamo preparato in allenamento non siamo stati abbastanza cinici in alcuni momenti chiave penso a gara 1 quando eravamo su più 14 non ammazzare le partite è stata una costante di questa stagione e poi per quanto riguarda il futuro il nuovo coach leggiamo le parole è un tecnico molto preparato meticoloso un gran conoscitore di basket ci mette tanta voglia e tanto agonismo se il presidente pedone vuole più spettacolo Cavina dice Michele Ferrari è l'uomo giusto lo ha già avuto come coach alla Snyder tornavo dalla B e mi diede spazio in A2 e poi per quanto riguarda il suo futuro nei prossimi giorni parleremo con la società e vedremo cosa accadrà per quel che riguarda la GSA vedo che l'intenzione della società ma anche del pubblico è di crescere ulteriormente ed ecco qua poi tutto tutto l'articolo c'è anche una curiosità che riguarda Vittorio Nobile riguarda i giochi del Mediterraneo Nobile sogna giochi del Mediterraneo nazionale sogno italiano non ancora 23 anni Vittorio Nobile il play della GSA di Basiliano colonna del progetto A2.0 per essere al timone della squadra dell'anno della cavalcata in serie A2 ma quanto a emozioni vissute ha già una buona esperienza il suo nome figura in una lista di una ventina di giocatori selezionabili per l'avventura italiana ai giochi del Mediterraneo in programma Tarragona in Spagna dal 25 al 30 luglio e poi sempre per quanto riguarda il basket vediamo l'Alma Trieste che vede il traguardo dopo il K.O. nelle derby la metamorfosi gli uomini di Dalmason vanno a gonfie vele grazie al fattore campo e adesso aspettano di sapere quale sarà l'avversaria nella finale playoff tra Casale Monferrato e la Fortitudo Bologna vediamo che proprio questa è la notizia che troviamo in apertura del fascicolo sportivo del piccolo ecco qua Alma pronta per sognare titola il piccolo sarà una settimana di eccitata attesa l'Alma va a giocarsi la serie finale per la promozione come un anno fa potrebbe obiettare qualcuno vero a metà 12 mesi fa l'Alma rendeva l'avversario al fattore campo 12 mesi fa l'Alma giocava contro il pronostico e contro una Virtus Bologna oggettivamente superiore 12 mesi fa l'Alma era reduce da una semifinale alla quinta sfida contro la Fortitudo logorante sia dal punto di vista fisico che nervoso visto che la prospettiva delle derby delle due torre intrigava non poco parte dell'Italia cestistica 12 mesi dopo siamo ancora in finale ma è cambiato quasi tutto a cominciare dal fattore campo che sta appunto dalla parte dell'Alma Trieste vediamo in prima pagina del fascicolo sportivo del piccolo anche un articolo sulla Triestina nel mirino un triste di portieri il milanese cerca un estremo difensore esperto tra Valentini Norli e l'ex Viotti Ma chiudiamo adesso il piccolo e torniamo a spostare la nostra attenzione sui quotidiani nazionali tra poco ritorneremo sulle prime pagine di Gazzetta dello Sport Corriere dello Sport e Tutto Sport prima però come sempre ci colleghiamo con i previsori dell'Osmer Arpa oggi al telefono con noi abbiamo Marcello Salvador buongiorno buongiorno a voi ciao ben ritrovati ben ritrovato anche a te raccontaci tutto come inizia questa settimana sul fronte meteo iniziando bene dopo la giornata di ieri che è stata una delle migliori del periodo quella di ieri anche stamattina il tempo è buono e lo sarà per tutta la mattinata però avrà notato la gente che l'aria oggi è più umida abbiamo un'atmosfera più umida specialmente in pianura e questo farà sì unita al fatto che sul Golfo di Genova c'è una depressione che sta avanzando verso nord che nel pomeriggio vi sia la condizione perché si formi qualche temporale quindi nel pomeriggio possibilità di qualche locale temporale più probabile sulle zone occidentali ridosso del Veneto quindi ma non è escluso che ve ne siano anche sulle altre zone certamente la zona più probabile è sempre la zona della fascia prealpina e come abbiamo già detto quella della fascia occidentale visto che le temperature ancora una volta saliranno nel pomeriggio intorno ai 30 gradi non è escluso che se si verifica il temporale potrebbe essere anche forte la possibilità di temporale sulla costa è più bassa per quanto riguarda domani diciamo che il tempo e sarà la caratteristica poi anche dei giorni successivi sarà incerto non c'è più una fase di alta pressione che peraltro è durata pochissimo e solo la giornata di domenica e quindi con piccoli disturbi che avremo dovuti sempre al residuo di questa depressione che oggi sta arrivando sul nord Italia avremo un tempo poco definito per cui in un contesto di cielo poco nuvoloso variabile c'è sempre la possibilità di avere soprattutto di pomeriggio dei locali rovesci dei locali temporali il tutto perché ormai il mare è diventato così caldo siamo oltre 25 gradi che è 5 gradi fuori la norma quindi una situazione completamente anomala che porta a favorire l'accumulo di umidità anche su tutta la nostra pianura fino alla fascia prealpina e quindi a favorire ulteriormente i temporali cosa che di per sé sarebbe già naturalmente più che sufficiente visto che questo è il periodo statisticamente con maggior probabilità di rovesce temporali sulla nostra regione ci mancava anche il mare che andasse a 25 gradi che quindi fornisse molta umidità da cui senso di affa che ogni giorno percepiamo sia sulla costa che in pianura e che porta a una condizione di tempo così incerto che sarà la caratteristica di tutta la settimana quindi sarà all'ordine del giorno il fatto di avere momenti di tempo bello e poi soprattutto nel pomeriggio la possibilità di qualche temporale purtroppo è così ma questa è la nostra regione e questo è anche diciamo l'effetto di un maggio estremamente caldo che ha portato completamente fuori la temperatura del mare non era mai stato così caldo in questo periodo grazie grazie allora Marcello Salvador per queste previsioni anche per questa piccola lezione di meteorologia ci ha spiegato bene anche appunto cosa sta accadendo in questi giorni nella nostra regione ma non solo grazie allora Marcello Salvador noi ritorniamo sui quotidiani di oggi abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione ci rimanevano le pagine dei quotidiani sportivi nazionali da analizzare andiamo subito sul Corriere dello Sport che dedica l'apertura a Sarri l'ex allenatore del Napoli al momento senza panchina Sarri a casa scrive il Corriere dello Sport è del caso del momento e forse anche dell'anno ha stabilito record di punti il suo gioco ha strappato consensi a livello mondiale ma non ha vinto scaricato dal Napoli è stato vicino al Chelsea che punta su Blanc per adesso ha perso il calcio e Ivan Zazzaroni scrive disoccupato pur se pagato Fior di Quattrini per un altro giorno una settimana un mese forse un intero anno Maurizio Sarri il regista 59enne della grande bellezza della manovra illuminata del gioco che ha giustamente stregato i parati fini d'Europa e i critici italiani al punto da trasformarlo in fenomeno mediatico è rimasto per il momento sottolineo la provvisorietà col cerino in mano e poi vediamo nel taglio alto la nazionale basta parla valo scrive il Corriere dello Sport io capitano orgoglio dei neri d'Italia e questa sera c'è l'Olanda la partita amichevole della nazionale nel taglio basso invece il tennis e i motori per quanto riguarda il tennis vediamo cecchinato per sognare storica in presa eliminato Goffin ora è nei quarti a Parigi contro Diokovic e oggi ci prova anche Fognini ad arrivare nei quarti contro Cilic andiamo a parlare anche di motori Gran Ducati di Toscana doppietta rossa al Mugello e terzo Valentino Rossi Lorenzo Batte dovizioso delirio per Vale sul podio andiamo anche sul Corriere dello anzi su tutto sport ecco il titolo di apertura Allegri Zidane in crocio Juve venerdì la telefonata di Florentino Perez per proporre la panchina del Real a Max per quest'anno l'ipotesi non sembra percorribile però in futuro potrebbe diventare concreta nel caso il club bianconero punterebbe proprio su Zizou questa l'apertura di è tutto sport di oggi che poi nel taglio alto scrive Toro verissimo si fa in Italia la gente del brasiliano che piace anche alla Lazio è a Roma tratto da tempo con i Granata ma ora servono 10 milioni di spalla di spalla in casa Milan Cutrone 2023 sempre più Milan il nuovo simbolo rosso nero spazio anche alla partita dell'Italia contro l'Olanda questa sera allo stadion di Torino esame Olanda Perin e Belotti azzurro speranza e vediamo poi i playoff di serie B Venezia e Cittadella Veneto in semifinale anche il tutto sport da spazio al tema delle seconde squadre tutto quello che c'è da sapere e poi si annuncia uno speciale sui mondiali domani C'è Chinato che impresa arriva ai quarti come abbiamo letto il tenista italiano che affronterà Djokovic e poi vediamo anche qui doppietta Ducati Valentino Terzo e per il golf Molinari è secondo per un colpo questa era la prima pagina di tutto sport chiudiamo così come avevamo aperto con la gazzetta dello sport avevamo già letto prima i titoli principali andiamo a vedere nel taglio basso gli articoli che non avevamo letto prima riguardano le nazionali che si preparano al mondiale Neymar torna dopo tre mesi show e golasso il Brasile sogna primo match dall'infortunio al piede Croazia battuta 2 a 0 e poi vediamo anche qui i playoff di serie B Dominio Inzaghi Trissal Perugia Cittadella Avanti Bari Pari e Rabbia il Venezia piega nesta 3 a 0 i pugliesi 2 a 2 chiudono in 8 ed ecco ancora tutta la prima pagina della gazzetta dello sport con la quale chiudiamo questa nostra rassegna stampa sportiva come sempre prima di salutarci io vi ricordo gli appuntamenti principali di oggi su Ud News TV abbiamo parlato di mondiali leggendo le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali ed ecco la nostra prima serata alle 21 l'appuntamento è con la storia dei mondiali di calcio squadre e campioni che hanno scritto la storia della più importante competizione internazionale appunto appuntamento questa sera alle 21 io vi ricordo anche le altre tre finestre dedicate all'informazione come ogni giorno su Ud News TV alle 13.30 il Tg di pranzo alle 19 tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport e poi l'ultima edizione del nostro Tg alle 22.30 ultimora per gli ultimi aggiornamenti sulla cronaca e sull'attualità è davvero tutto io vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre vi invito a rimanere in nostra compagnia in compagnia di Ud News TV buona giornata a tutti sull'attualità 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 sull'attualità